Ed eccoci tornati nella seconda parte del DLC di Pokémon Violetto Scorso episodio abbiamo fatto il primo Super 4, Pyrus Forse è il mio preferito, non lo so In questo episodio invece faremo il secondo Super 4 Che è nel nostro caso specifico Qua all'interno di tutti i tasti sto premendo Che è qua nel Bioterarium e lei Chiama Erin Diventata allenatrice in tenera età, allena i Pokémon con precisione Di tipo acciaio e incalza gli avversari con frendezza e compostezza E' la rappresentante degli studenti e viene da Austropoli Città di Unima Ah! Così! Due piedi? Ma anche degli altri mi dice ste cose Molto di gente esplicitata nel tipo Folletto perché cattura solo poco e mi ritiene carini Nel istituto è su una sorta di cività Viene da Scirocopoli Scirocopoli, aspetta chi era il capo palestra di Scirocopoli? Scirocopoli, capo palestra Palestra di Scirocopoli E' la figlia di Camelia Oddio non penso sia la figlia di Camelia Oddio in realtà avrebbe senso che sia figlia di Camelia Ci sta Vuoi partecipare alla sfida di Super 4? Yes, of course La vita? No, non è recuperata Vabbè probabilmente me la recuperare No, aspetta Non mi fido Non mi fido manco per sbaglio Ho ripreso l'altra squadra? Yes Perfetto Allora, dato che lei è di tipo acciaio Mettiamo immediatamente il nostro Rotom primo Chi mettiamo oltre il Rotom? Carchomp? Può sparare terremoti Quindi va bene così Eccoci qua Yes, voglio affrontare la sfida I seguaci di Erin, la Super 4 della piazza del Canyon Ti danno il benvenuto Ti chiami Fro, giusto? Sei qui per scalare i ranghi, immagino Yes Esattamente Puoi partecipare alla prova della Super 4 in cambio ai 50pm? Sì, ce li ho Enjoy Tutti tuoi Ricevuti Grazie mille Madame Erin fa la sua comparsa Eccola qui Tu sei... Però giusto? Eccomi arrivata Urge trasferirsi altrove Sei pregata di seguirmi Lei l'ho già affrontata nella demo Che ho provato, vabbè, del gioco A Londra in anteprima E ne ho già parlato La sua prova è la più semplice probabilmente, secondo me Permetterti di sfidare la Lega è un'eccezione tra le eccezioni Poiché l'istituto ha consentito seguirò le regole nonostante il mio iniziale di senso Come Super 4 mi limiterò a procedere senza intoppi La prova della Super 4 si svolge qui La sfida da me ideata è il volo contro il tempo Dovrai salire in groppa a un Pokémon e completare un percorso aereo nel Bioterarium Supererai la prova se arriverai al traguardo nei tempi stabiliti Attraversando gli anelli di Magnemite il tempo a disposizione si prolungherà Consiglio di raggiungere il traguardo attraverso più anelli possibile Ha consentito di avviare il volo contro il tempo? Sì Ricevuto Sei pregata di far uscire il tuo Pokémon del poche passaggio Bene Miraidon, è arrivato il momento di andare in girella Per fortuna questo Pokémon dovrebbe riuscire a volare con il necessario impegno Signor Gua, apra la porca Signor Gua Bello, bello, ho mangiato un altro panino All'interno della cupola cresce spontaneamente una piatta dalle proprietà misteriose Ho utilizzato le sue foglie per creare delle pillole che possono migliorare l'abilità del volo Per la sola durata della prova ti sarà consentito di volare liberamente nel Bioterarium Vabbè, ci ha spregato tutto Prego, da inizio la prova E buona fortuna Eccoli qua gli anelli di Magnemite Veramente semplicissimo Dobbiamo fare praticamente tutto il giro E siamo arrivati al checkpoint finale Cimentati nel volo contro il tempo Questa è la prima volta che l'ho fallita perché volevo prendere tutti gli anelli E non ho fatto in tempo Perché le manovre sono strane da fare sopra il Pokémon Ve lo garantisco E i comandi me li aspettavo invertiti Rispetto a come erano Pronti? Vedi, io premo giù e vado giù Premo su e vado su In realtà mi aspettavo all'inizio che fossero al contrario Quindi ho perso tempo quando lo provai la prima volta Però di per sé non è difficile Cioè la fine gli anelli ci passi solo per Ottenere il tempo aggiuntivo Il Magnemite è in alto da quello che vedo Qua non è proprio facilissimo passare Perché devi prendere subito quota Ecco qua Ok perfetto Con 40 secondi rimanenti Più semplici di così Sì lo gatto me lo aspettavo comunque Sì bello eh con le fiammette Però ognuno col proprio simboletto Tipo una Pokéball d'acciaio Una Pokéball di fuoco Cosa sta roba qua? Volo molto intelligente Nonché estrema e straordinaria puntualità Hai dunque superato la prova della Super 4 Congratulazioni Urge trasferirci nuovamente Sei pregata di seguirmi Questo in confronto a quella del cuoco C'è questa prova rispetto a quella lì È Molto più semplice Quella lì è molto più lunga Le altre due allo stesso tempo Non so cosa siano E ho tenuto il diritto di affrontarmi Mazzò Vuoi dare subito inizio alla lotta? Sì Ricevuto Assumiamo un assetto idoneo Un assetto idoneo Va bene I post assegnati sono stati raggiunti Cioè perché è un robot lei? Prima vorrei chiederti una cosa In che rapporto sei con Ribbon? È un mio amico Quindi si sono accorti anche loro Che c'è qualcosa che non va Quindi siete amici? Personalmente lo riconosco come fratello minore Della mia amica Rubra Ora è diverso da come era in precedenza Ciò è a causa di preoccupazione Se è possibile vorrei essere io a salvarlo Pertanto la sconfitta non mi è concesso Ti dia il via alla lotta Assurdo Pokémon Comunque le canzoni non le sbaglia mai Eccola qua Ok abbiamo Scarmory e Duc Trio di Alola Perfetto Scarmory Duc Trio in stand by Poi stiamo alla lotta in modo da terminare in orario Allora Il piano è Vampata su uno Terremoto sull'altro A me non mi becca Sono tra l'altro il più veloce in campo al momento Purtroppo resiste Rilevato rapporto tra tipi svantaggioso Le mie lenti si sono appannate per la tensione Eh resiste resiste Fuoca il nastro baby Purtroppo Duc Trio terremoto Tutti con terremoto Fa male Ma resiste anche lui Ma Basta Ma resistono tutti Ma è una cosa senza senso E mette levito roccia Levito roccia vabbè Già lo sapete Fa danno ai pokemon che entreranno Allora io farei Eh non so se fare Boh onestamente Ma si inverti volte dai Rogodenti e ci togliamo Opla via L'è andato Vediamo il pensiero Boccolino d'oro Boccoli d'oro Mi rallenta la velocità Inverti volt E anche scarmori è giù Inverti volt mi fa tornare indietro Adesso non mi ricordo Se il palloncino può scoppiare Quando vengono messe le punte Quindi semplicemente Io andrei di Quagsire Perché comunque ha terremoto anche lui Doppio terremoto E passa la paura Ascolano Bello Quagsire rosa Empoleon Questo mena come un pazzo Re Uniclus Re Uniclus Mette la distorto zona Io nel dubbio Doppio terremoto Madonna Povero Empoleon L'ha sentito tantissimo Quagsire fa terremoto Ma non fa granché Si si vede la differenza Energy palla Addio Quagsire Oh meno male Non ho messo distorto zona What? Avanzi Ok Che non so se Perché mi tolgo la possibilità Di fare terremoto No no Ma andiamo a Rotom Mi becco il 2 per Per colpa della debolezza Eh ho fatto bene dai Questo Shizor Madò Allora Sto Shizor Adesso vi dico una cosa Alla bacca che lo fa resistere al fuoco Ok Quando l'ho visto contro Col team che mi avevano dato Ero Scioccato Perché comunque sono andato Con le debolezze Mi sono visto I moveset Competitivi Vedi? Alla bacca contro il fuoco Contro la debolezza Non basta Tranquillo Fiatin Non basta Adesso cosa si inventa Re Uniclus? Eccolo qua Distorto zona Chiaro 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 Io non lo sopporto Sto Re Uniclus Davvero Grosso 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 Bello Metagross Ok Questi sono gli ultimi Tuoi due Pokémon Io farei fuoco fatuo Su Metagross E senti un po' Rogodenti No che rogodenti Senti un po' Pietrataglio Su Re Uniclus Ma sparirei un terremoto Basta Spero più che altro Che resista Bro Siamo a corto di tempo È il momento È il momento di finalizzare Ok Acciaio puro Acciaio puro Madò Il copricapo acciaio È il più brutto Comunque Aia Questo lo sento Mi sa No aspetta Un difensore Che me frega Let's go Baccaccedro Immortale Immortale Ce lo pugno Aaaaa Aaaaa Carta vetro Soffice Poco fa tu entra? Non entra Non entra Devastante Ok mi metto a piangere adesso Probabilmente la perdo Adesso che Garchon Perché io Eh Che faccio? Eh mando il pokemon Mando lui Il pokemon lento Rocce a guzze Mi colpiscono Eh qua sono costretto Ad andarmene Perché se no esplodo Col fatto che voglio fare surf Ma guarda te Quanto mi ha fregato Sta roba No ma è un vampata Glielo voglio sparare Comun Ma io voglio No forse è meglio Prendersela contro Uniclus E poi sparo un nube Eh ma tanto vampata Arriva per ultima Forse è meglio fare Vampata E poi nube Nube entra prima Perché toxapex È più lento Mi sa Proviamo Tanto dovrei reggerlo No? Ok lo reggo Nube Ah perfetto Mi tolgo I cambiamenti di stato Quindi vampata Adesso è al massimo Di nuovo Cozzata zen Missa Una gioia Mamma mia Che sberla Che gli è arrivata Grande toxapex Che mi togli le modifiche Di stato Grande 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 Bello così Bello così Facciamo Vabbè adesso è in scioltezza Adesso è veramente in scioltezza Adesso vabbè Inverti Volt Surf Dai ma che mi frega Andiamo Andiamo all out Non lo reggo Chiaramente non lo reggo Sto solo aspettando il momento In cui la stortozona sparisca Ma mi sa che è già sparita Non ci ho fatto caso Allora Inverti Volt È andato Adesso Vediamo se esplode il palloncino Tra l'altro Direva Vroom Perché mi sa sì Che lo fanno Che lo fa esplodere il palloncino Vediamo La roccia guzze No Si attiva dopo Quindi rimane Prima becco le rocce Poi arriva il palloncino E il palloncino quindi non esplode Va bene Va bene Va bene Va bene Se Titan Posso attaccare in priority Perché ho geloscheggia Mazza quanto fa male però Che già solo entri E perdi 100 di vita Metal testata E geloscheggia Il verso mi spezza ogni volta Vabbè non mi fa molto Il palloncino è scoppiato Ma don't worry Perché ti arriva una meta testata Ti fa passare tutta la fantasia Cioè vedete perché vi dicevo comunque Che sono team pensati Per mettervi in difficoltà Chiaramente se vai con il Pokémon Tutti al 100 E un altro paio di maniche Però già così comunque Con il Pokémon 90 Oh 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 Ma sono forti eh Forti in questi Super 4 Ne hanno pensati bene La forza dei propri Pokémon è direttamente proporzionale alla forza propria di volontà Evidentemente il tuo desiderio di aiutare Ribbon supera di gran lunga il mio Che rabbia Dunque procediamo con la foto commemorativa della tua vincita contro di me La cosa della foto commemorativa Ok Completamente fuori contesto Mi fa molto ridere Ottimo così Fuori dal suo personaggio Mi piace E cedo anche una delle mie mosse preferite Pressa d'acciaio Gli PS rimangono al bersaglio Ok quindi appena la usi È subito forte Esodisce il mio desiderio di salvare Ribbon E ora devo andare Arrivederci Tanti saluti amico mio Per adesso Nessuno che mi abbia dato troppi 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 problemi Oh Yo Futura campionessa Ti sei portata a casa anche la seconda vittoria Contro i super 4 E Rina è una tipa interessante vero? Te la senti parlare con Rubra Poi è uno spasso Per qualche motivo quelle due si capiscono al volo Buffo non trovi? È una tipa seria e rigorosa Ma anche molto sensibile È facile fraintenderla Ma tu cerca di fare uno sforzo Oh oh La tua scalata verso la vetta della Lemi Sta andando alla grande direi Oh Non direi che il nostro stimatissimo campione È venuto a spiare le mosse al nemico Ero preoccupato Temevo che ci avesse perso Ci avessi perso la mano Ma per fortuna vedo che non sei cambiata Fare meglio non perdere nemmeno le prossime Altrimenti non potrò far vedere di cosa son capace Una sana tensione tra rivali È proprio quello che ci vuole Ma guarda che ora si è fatta Io scappo Ci vediamo Buona fortuna con gli altri due super 4 Va bene Non che È strano perché comunque Uno è lui capito? Ma vediamo cosa dice tra l'altro la sua Ragionizzata del tipo drago Il suo stile di vita è diversissimo in occasione Sebbene abbiamo sempre sonno Riuscite a insegnare la note fonda Viene da Borueduopoli Città di Unima Però lui lo vorrei tenere per ultimo Vorrei mettere lei adesso Tra l'altro lui ghiaccio Ed è drago Quindi è temprato È un peccato Che abbia potuto volare Soltanto in quella occasione Comunque Sarebbe stato interessante Poter volare In altri modi Oh c'è Cleaver Pietra taglio Ovviamente non c'era Altra zona migliore Ok siamo di nuovo al centro Quindi là in fondo Dobbiamo arrivare Uff Mi ero dimenticato quanto fosse una gioia Per gli occhi Girare con Miracle Dio mio Bug ogni 3x2 Bastidiosissimo Fettore dei ghiacciai Prima volta tra l'altro che ci veniamo qua Bene andiamo nella zona falletto Nel frattempo controllo un po' com'è esteticamente Anche se non mi sembra Uh Crabominable Nel TCG abbiamo trovato una combo stranissima Tra Una sinergia Tra Crabominable E sentite un po' Ero e Ferreo Ed è super meme Perché gira benissimo come cosa Andiamo Terracristal selvatico Vediamo chi è No è Dugong Bello Dugong Eh ma di che Terracristal è? Ah solo affronta C'è fatta Polletto Bello Esotico così Divertente dai Dietro anche Gli spettatori Colletto Ah ma vada Ma dove è? 74 Ma chi lo butta più giù? Vabbè salvaguardia Vabbè Con il fatto che attacco prima io Faccio inverti Vai Così scappo Addio Ma ti butto Se Titan dai Così facciamo Ma è gigante Neanche ci sta nell'inquadratura Sdoppiatoria Tanti saluti What? Perché è così poco? Ah ah ok 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 Infatti Era un attimo preoccupato Infatti non capivo Facciamo di nuovo sdoppiatoria No perché più che altro Che sdoppiatoria di set Titan Questo set Titan È grossissimo In attacco Enorme Gigantesco Ok Ok Quindi ho finito Eh sì Easy Settore costa Bellino qua Molto bellino Qua Yes Siamo arrivati Carina la fontanella Al centro A parte che mi curo Non si sa mai Bene Lei è folletto Ok Io mi aspetto Come pokemon iniziale Un Tinkaton Grande quanto una casa Perché Se pensi al folletto Pensi al veleno Quindi uno dice Ma sì Metto Metto questa combo Così Garchomp Spara terremoto Mentre Revavrum Può fare sporco lancio A posto E anche per questo episodio È tutto La affrontiamo nel prossimo Ciao